buongiorno piove tanto su milano piove sul bagnato perché comunque piove da veri sera quindi adesso ho ripreso lo scrocio piove sul bagnato e naturalmente è l'auspicio della juve per domenica sera che non piova sul bagnato che di bagnato ce n'è già tanto e se piove ancora sono caboli sono voletili per diabetici come dice lino banfi infracchia la belva umana il commiserio ok a bologna sono molto carichi ve lo dico anche un po sulla scorta di quello che si diceva ieri ma è normale è normale è normalissimo voglio dire la juve ha dato di sé questa immagine di non solo di vulnerabilità ma di battibilità anche allo stadio anche laddove era praticamente impossibile difficilissimo insomma che la juve che la juve perdesse quelle volte che ha perso specialmente le prime volte insomma faceva anche un po di carachiri no in questi casi qua è così è così tra l'altro in questi momenti qua no è vero che si parla di mercato in entrata eccetera ma escono anche le dichiarazioni sulle dichiarazioni le possibilità sul mercato in uscita che già riguardano locatelli voi vi ricordate che l'arsenal era in concorrenza con la juventus proprio lo scorso anno per acquisire le prestazioni del centrocampista del sassuolo allora al sassuolo locatelli si è fatto un bel anno di titolare della passata stagione e con l'arrivo di pogba perché prima o poi pogba arriverà cioè nel senso giocherà ok nelle idee di 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 massimiliano allegri locatelli è praticamente stato tra virgolette declassato a riserva ma qual è stata la 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 goccia se voglia se c'è una visto che siamo in clima e qua di goccia ce ne sono tante quale sarebbe stata la goccia che ha fatto un po no come si dice tracimare perché a me non piace i luoghi comuni mi fanno schifo i luoghi comuni quindi c'è un episodio ecco c'è un episodio scatenante c'è un momento scatenante io sono andato un po così a perché locatelli non è felicissimo in questo momento dai parliamoci chiaro perché perché si è sentito dire che la nella juve che c'ha in mente allegri non c'è e quando è che si è sentito dire o meglio quando è che lo ha letto quando è che allegri lo ha detto o meglio quando è che allegri lo ha detto informalmente di una chiacchierata è per quello che io dico ragazzi quelle chiacchierate li diventano un'arma doppio taglio allegri si è arrabbiato molto per quella chiacchierata lì è che lo dico ma si è arrabbiato moltissimo perché non non pensava questo ve lo posso garantire non 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 pensava che venisse che venisse riportata pubblicata questa è la versione diciamo che che trapelano e allegri in quella chiacchierata appunto disegna la sua juve quella famosa juve ideale o virtuale no virtuale è quella che c'è adesso il suo ideale il nome di locatelli non c'è e allora è chiaro che un giocatore la prende male quelle 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 chiacchierate li fanno danni perché è chiaro che un giocatore la prende male no cioè dice ma caspita però lo devo venire a sapere da da un da un da un giornale da un giornale perché poi chiaro che un giocatore non si chiede sarà stata un'intervista sarà stata una chiacchierata non mi interessa l'ha detto stop no cioè ecco e quindi è possibile è possibile io sto cercando adesso di interpretare la situazione ma non c'è molto da interpretare è possibile che locatelli si senta un pochino scaricato a questo punto si senta un pochino scaricato è che umanamente guardi si guardi altrove guardi altrove perché sono finiti i tempi ragazzi in cui uno pur di giocare nella juventus si faceva un anno e mezzo di panchina due anni di panchina faceva la raccata palle dicevano io puoi giocare in una grande squadra li fanno fare anche raccata palle no non è più così non è più così è cambiato tutto è cambiato tutto e quindi è un giocatore che sia la juve che sia il mina che sia l'inter sia la madriga sia il barcellona c'era può giocare può giocare se capisce che non gioca che è stato messo un po da parte e chi se ne frega vado anche in un altro stato vado anche in una squadra che ha meno ambizioni di quella in cui mi trovo ma almeno le gioco i tempi sono cambiati questo è il professionismo una volta c'era più l'aspetto passionale poi locatelli juventino tra l'altro è di di estrazione ecco adesso è così i tempi sono questi quindi non mi stupirei se questo presunto interesse dell'arsenal già a gennaio dovesse sfociare in qualcosa di concreto il che comporterebbe che la juve dovrebbe dare un occhio anche al centro capo che poi numericamente perché poi c'è incognita come ti torna fa il mondiale cosa succede capite che sono tante le situazioni di cui deve tener conto poi una società e al di là di quella che è la programmazione ci possono essere gli imprevisti no come questo qua come questo qua questo qua entra nella voce imprevisti e non tanto probabilità insomma come nel monopoli è più imprevisti che probabilità va bene ok comunque lì a bologna si va con i contro il bologna si va verso il 3 5 2 con milic e vlavic con tanti reduci ovviamente dalla nazionale erano ben 14 e insomma si gioca e non ci si allena è così si sapeva no si sapeva e forse era il caso di allenarsi di più d'estate no mi è da ridere perché da ridere c'era sì nel senso cioè sembra che abbia detto a volte delle delle banalità che poi banalità vuol dire verità ma se avete letto l'ultimo commento di luciano moggi che ha scritto sul suo libero e dice la juve così perché poco allenata e si è privilegiato alla tournée estiva rispetto alla preparazione rispetto alla preparazione torno di nuovo il solito tema insomma della 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 preparazione estiva di una scuola poco allenata di quello che hanno detto anche altri giocatori che se ne sono andati via vedersi ad esempio mattais delitte lo stesso zaccaria eccetera la si lavora molto più duro qua meno ecco a proposito a proposito di delitte poi chiudo perché oggi ho fatto un po' un purpuri no in questo in questo nostro video delitte io ho fatto un servizio su sport mediaset no e non ho detto perché è la da ascoltare secondo me se andate sul sito di sport mediaset o su infinity alla sezione sport mediaset no lo vedete il mio servizio non ho attaccato non ho detto che delitte scaccia ma ma veramente è una roba pazzesca ho semplicemente fatto notare che sarà anche perché lui si ritiene poco allenato non lo so ma delitte fino adesso tra bundesliga e champions ha giocato tre partite tre su nove di squadra no tre partite ha giocato una in champions assasino con l'inter e due in bundesliga tra l'altro segnando se non sbaglio anche all'esordio eccetera no quindi ha delle difficoltà evidentemente ad inserirsi lì e ho anche fatto notare perché pensate un po' che lo scopo di questo servizio era capire se la juve poteva rimpiangere lì ho detto ragazzi stiamo parlando di un ragazzo di 23 anni quindi con dei margini di miglioramento incredibili ok esponenziali come si dice in questi casi no benissimo però facendo il raffronto tra queste prime nove giornate nove partite della juve tra campionato e champions e le prime nove partite in cui va giocato dell'icland scorso ok la media gol subiti è uguale 99 quindi non è che con delitte le cose andavano meglio ma si trattava di delimitare il campo questo rilievo statistico non è che con delitte le cose andavano meglio e adesso vanno uguali uguali nove gol 9 gol subiti in nove partite la media di un gol a partita identico ma non era un denigrare delitte sia chiaro in questo momento però dico no non c'è possibilità di rimpiangere delitte in questo momento allo stato attuale delle cose ok anzi ha prodotto 67 virgola 65 mila 7 milioni la vendita 30 virgola e qualcosa di di effetto positivo sui ricavi quindi in questo momento qua è stata un'operazione positiva per la juventus positiva poi il tempo dirà il raffronto tra delitte nel bayern della juve lo faremo alla fine della stagione tenendo conto che si tratta di un giocatore che comunque ha dei martini di crescita altissimi e che comunque non sarebbe rimasto oltre un altro anno o al massimo due perché lo sapete benissimo come funziona lì in quella scuderia lì lo sapete ve l'avevo già detto lo dicevo già l'anno scorso ve l'ho detto la scorsa primavera quando ancora nessuno parlava di delitte ma non perché sono io semplicemente per esperienza perché conosco quell'ambiente lì conosco quel quel modo quella politica di fa di 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 trasferimenti di minoraiola che purtroppo non c'è più ma che 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 ha portato avanti il suo studio su azienda diciamo così era normale che prima o poi andasse via chi pensava a un delitte dieci anni nella juve diceva una puttanata gigantesca perdonate mi sono detto gigantesca iscrivetevi al canale ci vediamo questa sera con secondo video ciao ragazzi ho mischiato un po gli argomenti oggi sarà anche la pioggia non lo so ciao